Giugno 1764. Il corpo di una pastorella di 14 anni, di nome Jean Boulet, viene ritrovato parzialmente divorato al limitare di un bosco della solitaria e isolata provincia del Gévaudan, nella regione dell'Occitania, nella Francia centro-meridionale. Ma non sarà un caso isolato questo, perché da quel primo ritrovamento in quell'area verranno ritrovati tantissimi altri corpi. Ma prima di continuare con questo video lasciate che mi presenti. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale amici, io sono Letizia e sarò la vostra guida preferita nel mondo del folklore, dei miti e delle leggende. La provincia del Gévaudan è un luogo, come abbiamo già detto, molto isolato, molto rurale ed è proprio per questo motivo che, anche durante la seconda guerra mondiale, la resistenza francese ne fece la sua roccaforte. Il terreno in questa zona della Francia è accidentato e troppo roccioso per poterci coltivare qualsiasi cosa. Per questo motivo la gente del posto si guadagnava da vivere sulle colline, portando a pascolare il bestiame. I ragazzini quindi, fin da quando erano molto molto piccoli, lavoravano spesso da soli, passando in mezzo ai fitti boschi per spostare appunto gli animali verso dei pascoli con più erba. Ovunque, infatti, nel Gévaudan vi sono fitte foreste e luoghi pericolosi senza leggi, pieni di fuorileggi in agguato, predoni, banditi e anche branchi di lupi. Ed è proprio in questo contesto, degno delle più spaventose fiabe dei fratelli Grimm, che fa la sua comparsa la bette du Gévaudan, la bestia del Gévaudan. Prima di Jean Boulet, però, un'altra pastorella che è riuscita a scampare all'attacco della bestia ci fornisce la prima descrizione di questo mostro. Mentre la giovane, un giorno di aprile, si stava prendendo cura delle sue mucche, infatti, sembrerebbe che un'enorme bestia fosse uscita di corsa dal buio della foresta. Questa aveva le dimensioni di un vitello, con un petto ampio, un'enorme bocca piena di denti aguzzi e gli occhi di fuoco. Aveva poi una criniera ispida e rossastra, con una linea scura che correva lungo tutta la spina dorsale. E, sfortunatamente per la piccola pastorella, sembrava molto più interessata a lei che alle vacche. L'animale, quindi, cercò di avventarsi sulla giovane con un'incredibile velocità. E noi non avremmo mai avuto la sua testimonianza se tra lei e quella bestia non ci fossero stati alcuni grossi tori, che hanno caricato ripetutamente l'animale finché questo non è fuggito, tornando a nascondersi tra gli alberi fitti. Poco dopo, come abbiamo detto all'inizio del video, il corpo della povera Jean Boulet fu ritrovato mutilato appena fuori dal villaggio di Saint-Étienne de Lugdare. Un mese dopo, tra luglio e agosto del 1764, una ragazzina di 15 anni di un paesino del Lige Vaudan viene assalita ferocemente, ma riuscirà a sopravvivere quel tanto sufficiente per dare una descrizione della bestia che l'aveva attaccata, tra l'altro molto simile a quella della prima ragazza. A questo punto, tra gli abitanti di quella remota provincia francese, si iniziò a scatenare il panico e una consapevolezza. C'era un mostro in mezzo a loro, un mostro assetato di sangue. Il 15 settembre dello stesso anno fu trovato il corpo di un altro pastorello, sulle colline vicino al villaggio di Laval, e anche questo corpo era parzialmente mangiato. Iniziarono così a esserci sempre più attacchi e sempre più vittime, fino ad arrivare alla spaventosa cifra di 130 persone divorate in tre anni, tra il 1764 e il 1767. E c'è da dire che le morti inflitte dalla bestia apparivano davvero terrificanti, qualcosa di mai visto prima e che mai più si sarebbe verificato. Le vittime erano spesso trovate mutilate, prive della testa oppure delle braccia o delle gambe e in alcuni casi, specie le donne, le venivano trovate nude. Nessuno pensò di esaminare questi corpi per accertarsi se fossero stati violentati o meno, certi come erano appunto che si trattasse di un animale. E questo fa molto pensare. Ma su questo ci torneremo poi più avanti. Nei mesi successivi furono decine le vittime e per lo più furono donne e bambine. Le descrizioni della bestia cominciarono a farsi numerosissime. Furono in molte ad affermare che la bestia fosse molto più grande di un lupo, con seriature sul corpo, ma alcune descrizioni erano più fantasiosi di altre. Alcuni, per esempio, dicevano che questo strano animale fosse in grado di alzarsi sulle zampe posteriori e di correre addirittura su di esse. Altri ancora dicevano che questa bestia emettesse tipo una risata satanica e qualcuno sostenne addirittura di averla sentita parlare. Col moltiplicarsi degli attacchi e dei morti, la notizia riuscì ad arrivare fino a corte, dove il re di Francia Luigi XV decise di inviare uno squadrone di ben 56 dragoni, che erano i soldati che facevano parte della cavaleria leggera, comandati dal capitano Duamel. Duamel avvistò la cosiddetta bestia più volte, senza però mai riuscire ad ucciderla. Le sue trappole, fatte con dei cadaveri di animali, ma anche di umani, intrisi appunto di veleno, oltre alle classiche tagliole e alle buche nascoste nel fogliame, si rivelarono del tutto inutili. E nonostante lui e i suoi uomini avessero battuto tutte le foreste del Gévaudan più e più volte, con tantissime mute di cani, non riuscirono mai a stanare la creatura. Re Luigi inviò allora un famoso cacciatore di lupi, il nobile normanno de Neval. Fece fuori tantissimi lupi lui, ma non la bestia che nel frattempo continuava a mettere le sue vittime. Come lui, anche molte altre persone affermarono di aver ucciso, o ferito mortalmente, la bestia che però puntualmente di lì a poco tornava a uccidere persone indifese. Fu anche per questo che fra gli abitanti della regione iniziò a farsi largo l'idea che la bestia avesse qualche potere magico, tanto da far nascere la superstizione che questa in realtà fosse una specie di demone immortale. Nel frattempo la Gran Bretagna, che come tutti noi sappiamo è una rivale storica della Francia, coglie l'occasione per appunto deridere i suoi sforzi di abbattere la bestia. Sui quotidiani di Londra giravano titoli come un esercito di 120.000 soldati francesi da mesi viene tenuto in scacco da un lupo. La Germania, meno stile e più avida, offrì invece i suoi mercenari che la Luigi, che la Luigi, perché non riesco a parlare, che il re Luigi accettò di buon grado, ma nessuno riuscì a mettere fine alla scea di sangue. Inoltre gli abitanti si lamentavano che i soldati non pagavano il vitto e l'alloggio e oltretutto rubavano pure i raccolti. Lo scoraggiamento quindi era enorme, le cacce non davano mai alcun esito e le spese per il mantenimento dei soldati gravavano su una regione già in difficoltà perché per la paura nessuno faceva più pascolare il bestiame e quindi i mercati erano deserti. E ci mancherebbe altro, ma chi è fi di casa quando sa che nei paraggi c'è tipo qualcosa che ti vuole mangiare? In ogni caso, dato che niente sembrava funzionare, allora Luigi XV, l'8 giugno del 1765, decide di chiamare François Antoine, gran portatore di archibugio del re, che era tra l'altro un rappresentante della Grand Louvottier, un'associazione francese nata nel 1300 proprio per eliminare le bestie feroci. Io voglio puntualizzare il fatto che io non so la pronuncia delle parole francesi. Ricordiamoci infatti che qualche secolo fa era normale che qualche branco di lupi, particolarmente famelico, arrivasse ad attaccare l'uomo. Noi non siamo più abituati a pensare che quando andiamo a passeggiare in un bosco effettivamente ci sono gli animali selvatici che potrebbero essere spaventati dalla presenza dell'uomo e che quindi li potrebbero attaccare. Gli animali fanno semplicemente gli animali. Ma fino al secolo scorso le persone sapevano i rischi che correvano quando si inoltravano in un bosco. In ogni caso gli attacchi di animali selvatici ci sono sempre stati, ancora di più quando l'uomo viveva appunto a stretto contatto con loro. Perché dovete pensare che il bosco per le persone una volta era fonte di vita, ci andavano a raccogliere i funghi, le bacche, le erbe medicinali, ci andavano a cacciare, ci andavano a raccogliere il legname. Però una bestia così feroce non c'era mai stata. Sembrava ce l'avesse proprio con le persone. Un animale difficilmente attacca un uomo perché sa che è pericoloso e l'istinto gli dice che non fa parte delle sue prede abituali con cui lui si sfama. Ma la bestia del Gévaudan sembra volere solo far del male a quante più persone possibili. E' strano il fatto che quando vede dei pastori con degli animali che pascolano, lui decide di attaccare i pastori e non gli animali. In ogni caso, scusate per questa mia digressione, quindi Luigi XV chiama François Antoine che arriva accompagnato da suo figlio da 14 guardia caccia e da una folta muta di cani. E incredibilmente in un primo momento sembra che l'uomo sia riuscito nel suo intento perché uccise un lupo nel settembre del 1765 con un'enorme spingarda che era essenzialmente un fucile con cui di solito si andava a caccia di uccelli acquatici. Quindi uccide questo lupo con questa spingarda caricata contemporaneamente con ben cinque cariche perché si credeva che la bestia fosse invulnerabile alle normali fucilate. E riuscì quindi a far fuori un colossale lupo che misurava ben un metro e quaranta senza la coda e che pesava circa 70 chili, quasi il doppio del normale. Il problema sembrò risolto e Antoine fu colmato di doni. Pensate che la sola taglia sull'animale era stratosferica, ben 9.400 franchi che sono pari a 33 anni di lavoro di un contadino dell'epoca o a oltre 700.000 euro attuali. Quindi era Luigi XV che ritenne chiusa la faccenda si mise il cuore in pace. Ma per poco perché dopo alcuni mesi senza attacchi la misteriosa creatura tornò ad uccidere. Il re di Francia però si stancò di questa storia e non voglio più sentire parlare della questione perché era convinto che la vera bestia fosse già stata uccisa da François Antoine. Da quel momento i giornali non riportarono più sulle loro pagine le notizie delle aggressioni che tuttavia continuarono a verificarsi nel Gévaudan e nel sud dell'Alvernia fino al 1767. In primavera le attacchi aumentarono e divennero addirittura più feroci e le persone di quella provincia capirono che nessuno li avrebbe più aiutati a fronteggiare la bestia. La bestia però sembrava muoversi meno e iniziò ad essere avvistata solamente sui monti Mouchet, Grand e Chauvet distanti circa 15 chilometri l'uno dall'altro. Continuò quindi i suoi attacchi per tutto il 1766 ma il suo modo superandi sembrava cambiato. Adesso l'animale era meno intraprendente e un po' più attento però nel giugno del 1767 un certo Jean Chastel, un semplice allevatore di cani della provincia di Gévaudan uccise un enorme lupo e dopo quest'uccisione non ci furono più attacchi. Il corpo del mostro venne analizzato da un chirurgo del luogo che disse che si trattava sicuramente di un canide per via della forma dei suoi denti del suo muso ma che aveva delle zampe e una testa sproporzionatamente grandi. I suoi piedi erano grandi quasi quanto quelli di una tigre infatti e le sue mascelle dovevano esercitare una pressione pari a quella di una iena. Chastel portò il corpo dell'animale al re sperando in una lauta ricompensa ma non l'ottenne perché come avevamo detto prima per Luigi XV l'unica bestia era stata quella uccisa nel 1765 da Antoine. Il cadavere dell'animale malamente imbalsamato e praticamente in decomposizione per ordine del re fu quindi immediatamente distrutto. Il totale delle vittime della bestia di Gévaudan quella accertata almeno fu di 136 con almeno 270 attacchi 14 delle quali furono ritrovate senza testa ma con ogni probabilità le vittime furono molte di più forse 150 o 200 solo che a un certo punto non furono più conteggiate per ordine appunto del re che impose la censura sulla vicenda. Addirittura pensate che la censura si estese ai curati che non potevano più scrivere sull'atto di morte delle vittime la vera causa. Ma quindi che cosa diavolo era la bestia di Gévaudan? La prima ipotesi ovviamente è che si fosse trattato di un lupo o meglio di un branco di lupi. C'è da dire però che i lupi normalmente non attaccano l'uomo a dispetto appunto di quanto si credeva e la gente che viveva nel Gévaudan dato che viveva essenzialmente di pastorizia già uccideva circa 700 lupi ogni anno per difendere appunto le proprie greggi quindi tutti sapevano che aspetto aveva un lupo e tutti sapevano anche come difendersi da questi animali. Tutti i testimoni oculari che hanno visto la bestia o che sono stati attaccati erano fermamente convinti che l'animale non fosse un lupo ma qualcosa che non conoscevano. Per questo fu subito battezzata la bestia. Né infatti i lupi possono avere striature sull'orso né spogliano le loro vittime né decapitano la loro preda e tantomeno strappano il seno alle donne. Si è poi ipotizzato che possa essersi trattato di un lupo affetto da rabbia. Per chi non lo sapesse la rabbia è una malattia virale che causa una specie di infiammazione acuta del cervello e questo sia negli animali che negli esseri umani. E le vittime di questa malattia spesso compiono gesti molto violenti non riescono più a controllare le proprie emozioni e sono molto confusi ma solitamente quando un animale ha la rabbia muore entro pochi mesi massimo massimo un anno da quando la contrae mentre la bestia ha insanguinato il jevaudan per tre anni. Impossibile quindi. E se fosse stata una iena? Effettivamente molte descrizioni corrisponderebbero a questo animale. La iena a prima vista potrebbe sembrare un lupo o un cane ma ha la pelliccia striata come una tigre e una specie di criniera ispida e poi emette un verso che può sembrare quella risata malefica che alcuni pastori avevano sentito ed è anche nota effettivamente per decapitare le sue prede. E infine sarebbe stata sicuramente sconosciuta gli abitanti della zona che non avrebbero mai avuto la possibilità di vederne una dal vivo se non durante qualche fiera nei serragli. C'è da dire infatti che i membri della nobiltà francese importavano spesso nel paese degli animali esotici per i loro appunto serragli e alcune iene furono portati in Francia e nel resto dell'Europa proprio in quel periodo. In Italia addirittura ci fu un caso di una iena che era scappata da un serraglio e che era riuscita a far fuori alcune persone. Ma la seconda bestia ad essere uccisa, quella che ha fatto fuori il povero Chastell rimasto senza ricompensa ma che dopo la sua uccisione non si rimedono più vittime, beh questa bestia non aveva abbastanza denti per essere una iena. Questa creatura era senza dubbio un canide di qualche tipo secondo il notaio del re che fu l'uomo che appunto esegui quella che sembra essere stata un'autopsia straordinariamente accurata. E inoltre questo animale fu esaminato anche dal conte de Buffon, uno scienziato e un naturalista francese le cui idee avrebbero avuto una grande influenza addirittura su Darwin. E de Buffon dichiarò che si trattava senza alcun dubbio di un canide, non di uno ienide. Inoltre c'è da tener conto che una iena non avrebbe mai potuto sopravvivere per tre anni in un'area dove vivevano centinaia di lupi. Allora vengono presi in esame altri animali selvatici come orsi, tigri, leoni e leopardi ma è praticamente impossibile che dei cacciatori e dei contadini avessero confuso un orso o un leone con un lupo. Alcuni sono caduti addirittura nel fantascientifico sostenendo che la bestia fosse un animale preistorico, un animale appunto che effettivamente sembrava un canide che si chiama Andreusarchus, una cosa del genere, ma che aveva la testa gigantesca, la taglia di un cavallo e una mandibola tale da frantumare le ossa di qualsiasi altro a essere vivente. Ma come avrebbe potuto un gigantesco mammifero feroce, carnivoro, come ha potuto sopravvivere da un'era preistorica fino al 1700 senza che nessuno se ne accorgesse prima. Altre infine ritengono che la bestia fosse stata in realtà un serial killer travestito da animale, perché quasi tutte le vittime sono state donne e bambini o bambine. È vero che un animale di solito sceglie come superi degli animali più deboli e indifesi, ma è anche vero che quasi tutte le vittime della bestia vennero ritrovate con le vesti strappate, i seni lacerati o addirittura mutilati. E a sostegno di tale tesi c'è un episodio molto particolare. Il 12 gennaio del 1765 la bestia aggredì sette bambini, cinque maschi e due femmine, dagli otto ai dodici anni. L'animale attaccò girando intorno ai bambini raggruppati per difendersi. Morse Joseph Panafiù e lo trascinò via alzandosi sulle zampe posteriori e prendendolo praticamente in braccio. Uno dei bambini credò di fuggire mentre la creatura era occupata con il loro sfortunato amichetto, ma un altro di questi ragazzini, Jacques-André Portefeu, li incoraggiò a tornare indietro a salvare il loro amico. La bestia venne allora avvicinata dai bambini, che erano armati di bastoni ai quali avevano legato dei coltelli. Portefeu e i suoi amici riuscirono a liberare il compagno, al quale la belva aveva però già morso il viso, mentre l'arrivo di alcuni uomini allertati dalle grida fece fuggire definitivamente l'animale nel bosco. Il verbale di quanto accaduto venne inviato dal vescovo di Mend direttamente a Luigi XV, il quale ricompensò ogni bambino con 300 livres per il coraggio dimostrato e soffrì di pagare personalmente l'istruzione di Jacques. Nel suo resoconto il ragazzino affermò però di aver intravisto qualcosa sul petto della bestia, degli oggetti simili tipo a dei bottoni. Che cosa strana! I ragazzi stessi affermarono nel denunciare l'attacco che quello che avevano incontrato non era né un lupo né una iena, ma un essere umano travestito e posseduto dal demonio. Ma aspettate perché in realtà non sono finite qui le ipotesi. Infatti ci si è domandati anche come mai tutta questa faccenda sia finita solo dopo l'uccisione di un lupo da parte di Chassel. Forse c'era più di una bestia, forse ci si è trovati davanti a molti animali diversi, in realtà lupi, cani, incroci di lupo e cane e sì forse anche iene. E forse tutti erano stati addestrati e manovrati dallo stesso Jean Chassel per uccidere proprio le persone. Chassel infatti non era una persona con una vita molto limpida. L'uomo era noto tra la gente del posto per l'attività di addestrare e allevare cani e lupi e avrebbe potuto facilmente acquistare una iena o altri animali esotici. E secondo diversi libri che trattano la vicenda, Chassel e suo figlio sarebbero stati molto legati a quel Marchese de Sade, la cui passione per tormentare, ferire e fare del male al prossimo divenne leggendaria. Infatti da lui proprio deriva il termine sadismo. E a parte questo, Chassel e suo figlio avevano tutte le ragioni per voler fare del male agli abitanti del Gévaudan, poiché venivano continuamente maltrattati, schifati e trattati dai marginati dagli abitanti dei villaggi, a causa della loro fede. Infatti il Gévaudan era una provincia a maggioranza protestante, mentre i due erano cattolici. E questo spiegherebbe tutto ciò che non si era riuscito a capire sulla Bessia, ad esempio spiegherebbe il perché è stata descritta in tanti modi diversi dai testimoni. Al di là dello shock e della superstizione, potrebbe essere dovuto al fatto che Chassel usava vari animali, non solo uno, e forse a volte li vestiva con delle armature o della roba simile per farli sembrare più spaventosi. In realtà questa era una strana pratica che però veniva già usata dagli antichi romani e anche dai conquistadores. Se questi animali fossero stati corazzati inoltre, si spiegherebbe come avrebbero fatto a resistere ai proiettili dei cacciatori. E poi come avrebbe potuto un animale nascondersi così bene dalle grandi battute di caccia che venivano organizzate in massa per catturarlo? Beh, forse quest'animale veniva nascosto dove nessuno l'avrebbe mai cercato, all'interno di una casa o della stalla di uno degli abitanti del luogo. E questo spiegherebbe anche come ha potuto Chassel uccidere una bestia che per così tanti anni è apparsa completamente introvabile anche ai più abili cacciatori d'Europa. Il racconto dice che la bestia non ha nemmeno provato ad attaccare Chassel quando se l'è trovata davanti, anche se ha avuto tutto il tempo per farlo visto che l'uomo si era messo in ginocchio a pregare prima di sparare all'animale che aveva di fronte a lui. A quel tempo questo venne visto come un atto di dio, ma la spiegazione più logica è che la bestia fosse appunto un animale addestrato che non avrebbe mai attaccato il suo padrone. Un'altra prova? Beh, durante il regno di terrore della bestia Chassel fu arrestato e detenuto per un mese e guarda caso durante quel mese gli attacchi della bestia si fermarono improvvisamente per poi ricominciare una volta che l'uomo venne liberato. E la parte sulle probabili violenze e i bambini che notavano dei bottoni? Beh, è possibile anche che in alcuni casi Chassel, oppure suo figlio, abbiano commesso i crimini di persona, travestiti e comportandosi appunto come dei mostri. O forse altri serial killer dell'epoca approfittarono del momento di terrore e uccisero le loro vittime vestite da lupi, sapendo che la colpa di tutto sarebbe tanto caduta automaticamente sulla bestia. Infatti la miseria, la fame e la violenza sono gli aspetti che non mancano mai quando fa la sua comparsa un mostro. E la Francia, che aveva appena perso la cosiddetta guerra dei sette anni nel 1763, non stava attraversando un buon momento economico e politico. La Francia infatti aveva appena perso le sue colonie in Nord America e le casse pubbliche erano vuote. Inoltre erano ancora freschi nella mente degli abitanti gli scontri sanguinosi avvenuti tra i cattolici e i protestanti. Guardate anche come viene sempre chiamata in tutti i documenti dell'epoca e in tutti gli articoli questo mostro, la bestia. Perché non il lupo di Jevodan se tutto indicava che era questo un animale che quasi sicuramente era responsabile delle tante morti? Il termine bestia si riferisce ad un aspetto chiaramente soprannaturale, ma è anche una parola dai chiari connotati biblici. Diventa un classico sinonimo di punizione e di fine dei tempi nel linguaggio ecclesiastico infatti. Quasi un annuncio della fine del mondo. E la Francia, come abbiamo visto, era effettivamente alle soglie della fine di un mondo, quello dell'antico regime. I momenti critici, come abbiamo detto, tendono a far uscire i mostri dalle loro tane, sia mentali che reali. E il lupo era in Europa, tra tutti, era quello che usciva più spesso. Nelle enciclopedie e nei bestiari latieni il lupo era la rappresentazione più completa di colui che minaccia e divora. Una terribile bestia che alla fine del Medioevo, ma soprattutto nell'età moderna, cominciò a fare paura nelle persone. Il lupo è sempre stato il compagno della fame e della guerra, nemico degli armenti e dell'uomo, soprattutto nella regione che ci riguarda, la cui principale attività economica era appunto la pastorizia. E quindi ecco forse perché la storia della bestia e del Gévaudan è rimasta così famosa tanto da arrivare fino a noi. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Conoscevate questa storia? cosa ne pensate? Cosa pensate che fosse stato quell'animale, quella bestia? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Un bacio!